Un'altra new entry degli O2Test Italia, quindi un forte applauso a Bianca. Cecchi, mi dice qualcosa questo cognome? Sì. Conosci per caso Piero? Conosco. Allora, Bianca ci porta un talk su processori armi, installazione da due e risparmio energetico. Esatto. Quanta bella roba. Allora, lì hai le tue slide con il cronometro, resta all'interno dei due quadrati neri sul palco perché altrimenti c'è un po' di interferenza e buon lavoro. Grazie. Ciao a tutti. Grazie dell'incoraggiamento. Allora, io sono Bianca Cecchi, sono una user interface designer e lavoro appunto a Cecchi SRL. L'azienda è produttrice di molle e minuterie metalliche, quindi settore metallo meccanico. Abbiamo diversi prodotti per settori più vari, quindi dall'oil and gas all'illuminotecnica, settori medicali e così via. È un team composto da circa 30 tra operai e impiegati, ma da oltre 20 anni offriamo servizi per la vendita e le distribuzioni di gestioni informatiche integrate. Dal punto di vista informatico la Cecchi si rivolge a piccole e medie imprese, professioniste e associazioni che hanno la necessità di migliorare l'organizzazione delle proprie attività adattandole alle richieste del mercato, sempre più digitalizzato. Innanzitutto noi utilizziamo la piattaforma Odoo per gestire il nostro sito web e e-commerce e appunto per vendere gli articoli online. L'azienda è sempre stata attenta all'argomento sostenibilità e cerca di migliorare quotidianamente la propria efficienza energetica. Per questo abbiamo deciso di avviare uno studio per analizzare il consumo energetico e i costi associati a diversi dispositivi, sia mini PC che computer tradizionali. Nel nostro studio abbiamo analizzato diversi dispositivi, sia con processori ARM che con processori Intel. Andiamo a vedere un pochino più nello specifico. Manca qualche slide? Va bene. ARM è nota appunto per essere molto efficiente a livello energetico, è stata progettata principalmente per dispositivi mobili integrati, dove appunto il consumo di energia è un argomento critico. Il concetto di ARM è nato all'incirca negli anni Ottanta in un'azienda informatica britannica. Gli ingegneri infatti miravano a creare un processore che fornisse prestazioni superiori ma con un consumo limitato. Nel corso degli anni comunque poi gli ARM si sono evoluti, diventando la scelta perfetta anche poi per dispositivi mobili, ma anche poi per il mondo degli smartphone, dei tablet e vedremo anche dei PC. Vediamo in breve la timeline di ARM negli anni, quindi se negli anni Ottanta più o meno è nato, vediamo negli anni Novanta è stata fondata ufficialmente come joint venture tra Acorn, che è appunto l'azienda fondatrice, insieme a Apple, insieme a VLSI Technology. Nel 2001 vediamo il primo processore ARM 7 utilizzato all'interno dell'iPod e del Nintendo Game Boy Advance, e andando avanti nel 2011 utilizzato per il primo iPhone, e poi da lì tutti i successivi. Negli ultimi anni è stato appunto avvicinato anche il mondo Mac, con il primo processore ARM, e quest'anno anche Windows 11 ha rilasciato la versione con ARM. Ecco qua, vediamo brevemente una differenza tra i due processori, quindi ARM e Intel, che si differenziano principalmente per l'architettura. Quindi se una è Reduced Instruction Set Computing, quindi che utilizza delle istruzioni più semplici, consentendo quindi un consumo inferiore e una maggiore efficienza, dall'altra parte c'è un'architettura più complessa, quindi che offre maggiore potenza e complessità anche di codice. Il nostro studio è partito analizzando nove diversi dispositivi, che poi vedremo più nel dettaglio, dopodiché abbiamo condotto dei test su ogni dispositivo per misurare il consumo energetico a riposo e sotto sforzo. Dopodiché siamo andati avanti con la fase successiva, paragonando i costi e i consumi di ogni dispositivo. E infine abbiamo raccolto tutti i dati e creato i vari confronti. Ok, questi sono i nove dispositivi che abbiamo selezionato. Come vediamo sono quattro dispositivi col processore Intel e cinque col processore ARM, quindi anche per vedere le diverse opportunità dei vari dispositivi. Vediamo più nel dettaglio i dispositivi. Allora, il primo innanzitutto è il Mac Mini M2, computer molto compatto, è il processore M2, quindi di seconda generazione della Apple, e viene utilizzato in varie applicazioni. Un altro dispositivo che abbiamo utilizzato nei test è il Raspberry Pi 5, quindi è l'ultima versione del Raspberry Pi, una scheda molto conosciuta in tutto il mondo, infatti il Raspberry ha comunicato di aver venduto più di 61 milioni di unità in tutti questi anni, dal lancio del 2012. Poi abbiamo analizzato lo Droid H3, quindi sempre un mini PC dotato di processore Intel. Abbiamo analizzato due diversi PC, quindi un PC sempre con processore Intel, con un sistema operativo doppio, quindi sia Linux che Windows, mentre un altro PC sempre con un hard disk simile, però di generazione diversa, infatti vediamo una piccola differenza, e invece questo solo con sistema operativo Linux. Proseguendo, abbiamo appunto analizzato un altro mini PC MSI QB5, compatto con processore Intel, e altri tre dispositivi con processore ARM, abbiamo il ROC 5B, lo Droid M1S e lo Droid N2L. Ok, proseguendo verso il test, chiaramente abbiamo dovuto definire dei criteri per capire come omogenizzare i diversi dispositivi, e capire di fare un confronto più verifiero. Vediamo, infatti abbiamo fatto un consumo a riposo, quindi abbiamo misurato il consumo energetico in dei momenti di non attività, un consumo sotto sforzo, di cui abbiamo eseguito più test, abbiamo eseguito appunto il consumo del test di carico, quindi in un momento in cui stavamo facendo delle operazioni, e abbiamo preso anche dei test, delle analisi, dei tempi necessari per sia inizializzare un database, che l'importazione di 12.000 articoli, quindi abbiamo fatto diversi test di tempi di esecuzione. Abbiamo chiaramente installato UDU sui diversi dispositivi, qui abbiamo inserito dei macro step, diciamo, per ricordare l'installazione, quindi abbiamo clonato il codice di UDU da GitHub e installato le dipendenze, scritto la configurazione e avviato UDU. Durante le prove abbiamo riscontrato un problema con vkhtml2pdf per mancanza di aggiornamenti sull'architettura ARM. Ok, andiamo a vedere intanto le prime tabelle, quindi vediamo i primi consumi. Allora, vediamo intanto, possiamo partire da capire, vedere subito che i due pc e in generale i computer che hanno il processore Intel, hanno in media un consumo più alto, quindi già dai due pc, anche l'Odroid H3 e l'M6 iCubi. Mentre il Mac Mini, il Raspberry e gli ultimi iOdroid, chiaramente che sono mini pc, quindi hanno invece un consumo ridotto. Per quanto riguarda invece i tempi di esecuzione, abbiamo analizzato come sempre i nove dispositivi e vediamo che i tempi di esecuzione sono invece molto diversi, quindi mentre alcuni dispositivi, come per esempio il Mac Mini, risultano avere il tempo di esecuzione più basso, altri come i due Odroid che, come nella slide precedente, abbiamo visto i consumi estremamente bassi, però anche le prestazioni, quindi i tempi, vanno a essere molto, molto, molto alti. Vediamo anche invece i PC che comunque riescono ad avere dei tempi di esecuzione comunque buoni, non a livello di Mac Mini che in questo test è stato appunto il valore più basso, però comunque riescono ad avere un buon risultato. In questa tabella invece paragoniamo quindi il test che abbiamo fatto di test di importazione di 12.000 articoli insieme al consumo medio. Anche in questo caso vediamo come è interessante vedere che non sempre il consumo e i tempi si muovono nella stessa maniera, quindi se per alcuni dispositivi comunque riescono a essere, a trovare, diciamo, un equilibrio, mentre per altri dispositivi il consumo arriva a superare un bel consumo kilowattora, mentre i tempi comunque rimangono molto bassi. Quindi è interessante, per esempio, vediamo nel Raspberry un consumo abbastanza basso e comunque dei tempi che non sono esageratamente alti, mentre per esempio, prendendo sempre gli ultimi due mini PC, vediamo invece che sì, il consumo è molto basso, ma i tempi vanno fuori addirittura dalla slide. Per quanto riguarda invece il Mac, notiamo sempre questo equilibrio, diciamo, delle due barre. Ok. Visto che abbiamo analizzato, appunto, diversi dispositivi che possono essere adottati, diciamo, a seconda delle esigenze e delle necessità delle nostre applicazioni, abbiamo deciso di coprire tutti i casi, diciamo, analizzando il costo di un server virtuale su ARM con Oracle. A prezzi molto competitivi, come vediamo anche nella slide, e oltretutto offre istanze completamente gestite di Postgres. ok. Vediamo alla tabella di confronto. Allora, innanzitutto, il consumo kilowattora che abbiamo inserito annuale lo abbiamo fatto calcolando l'80% di consumo a riposo e il 20% di consumo invece sotto sforzo. Abbiamo ipotizzato questo utilizzo. Nella tabella abbiamo inserito un costo kilowattora di 0,2, quindi questo è stato quello che noi abbiamo inserito e chiaramente anche questo è valutabile rispetto alla situazione. Ok. Vediamo in linea generale quali sono quindi i costi annuali che si rispecchiano. Per esempio, vediamo nel caso del PC1 i due diversi PC che abbiamo visto che i costi annuali di energia consumata superano più o meno i 500 euro, mentre per esempio per casi di mini PC come quelli che abbiamo visto quindi in cui i tempi comunque risultano molto alti va a un prezzo annuale di circa 72 euro l'anno. Nei casi intermedi ritroviamo uno droid per esempio H3 che arriva a 172 mentre il MEC arriva sui 100 euro l'anno. Vediamo anche il MSI cube sui 170 quindi ecco abbiamo dei casi in cui effettivamente il costo rimane molto molto basso mentre in altri si va a alzare in maniera abbastanza importante. Ok, il risultato delle analisi vediamo abbiamo appunto analizzato diverse opzioni di dispositivi e diciamo sebbene nessuna scheda possa soddisfare tutte le esigenze ci sono diverse opportunità da esplorare in termini di progetti di IoT e applicazioni educative. Infatti la loro efficienza energetica e le prestazioni possono essere adatti per la raccolta e l'analisi dei dati in ambienti connessi. Infatti ci sono anche interessanti opportunità nel settore appunto dell'istruzione e dell'educazione. Alcune schede possono offrire funzionalità e risorse appunto che possono essere utilizzate per scopi educativi sia vediamo per il consumo ridotto di energia che anche per appunto le basse spese. In conclusione è importante considerare attentamente le caratteristiche di ciascuna scheda e valutare quale possa essere la migliore opzione per il nostro contesto e per i nostri obiettivi. Grazie. Grazie con largo anticipo. Sì. Bene. è un'andata un po' veloce. Hai il tuo ritmo. Abbiamo qualche domanda per Bianca. Stesi. Silenzio. Senti ma come mai vi è venuta in mente questa idea di fare il test? So che Piero da un po' di tempo che smanetta con diversi si nasconde però. Sì è colpa di Piero chiaramente. È colpa di Piero è sempre colpa di Piero. Sì sì volevamo capire anche un po' come poter sfruttare al massimo questi piccoli dispositivi visto anche le macchine aziendali che abbiamo cercare anche di trovare un giusto compromesso tra consumi e costi che chiaramente in un'azienda metalmeccanica. Sì anche perché spesso e volentieri diciamo non c'è quest'occhio attento al consumo si prende il dispositivo lo si monta magari su una linea di produzione però poi va anche a considerare l'impatto che ha economico non solo il macchinario ma anche il dispositivo collegato per cui anche se incide pochissimo però è giusto avere contezza dei numeri. Sì diciamo che incide pochissimo però calcolando che magari abbiamo 20 macchinari se su ogni macchinario vado a installare un computer di un certo tipo rispetto a che un altro posso comunque trovare un risparmio esatto eccola è arrivata una domanda ce ne abbiamo due sì bella presentazione e bella analisi io ho visto sempre UDU che è con la U però scritto che era un processore open hardware tra l'altro che sviluppavano dalle parti di Firenze penso a Arezzo che ritenevo interessante perché aveva questi consumi bassi perché era in arm eccetera e credo che comunque utilizzare ad esempio in pc in fabbrica ad esempio ho dei clienti che usano raspberry quindi i vecchi terminali S400 adesso sono diventati questi monitor con questo mini pc che è un raspberry o simile diciamo che ritengo sia una giusta soluzione sia in termini di risultato sia di costo sia di gestione che di acquisto voi alla fine però di tutto quello che ci avete fatto vedere quale che avete scelto come la miglior soluzione per il vostro cliente aiuto dal pubblico si può risponde allora volevo dire questo che noi l'abbiamo utilizzato in azienda per gli OT per altri motivi avevo partito fin dal 2019 chi era nel 2019 aveva già visto i raspberry oggi il raspberry 5 è effettivamente molto superiore al raspberry 4 e quindi può essere utilizzato anche per diciamo scopi oltre che didattici proprio per sostituire computer come anche gli odroid possono sostituire computer direttamente sulle macchine operatrici per cui invece di avere un computer professionale possiamo avere l'altro discorso è proprio quello che casomai Odu potrebbe portare avanti che le ARM vengano messi di standard come installazione per cui quel discorso si è fatto noi è un discorso di portare avanti anche l'ARM come installazione standard oltre a quella su Windows e su Mac che sia un'installazione standard perché è un futuro a breve termine cioè non è un futuro tra dieci anni è un futuro già di oggi per cui il futuro è quasi sicuramente processori ARM piuttosto che processori Intel e già tutto è installabile direttamente su Odu in questo momento grazie per la risposta Piero ci abbiamo una domanda qui terza fila Marcello un applauso alla nostra Valletta complimenti per l'idea su un aspetto magari periferico ma con degli impatti potenzialmente molto grandi la mia domanda è sull'aspetto software più che hardware intanto è una richiesta di spiegazione sull'utilizzo del riferimento al VPC al database a Postgres su cloud come mai l'avete inserito non ho ben capito come ha impattato i test che avete fatto e poi ho visto che avete menzionato il problema di wkhtml to pdf e lì penso che il progetto è molto indietro il mantenere è molto quasi scomparso e si vede dal numero di ticket aperti e se la comunità può intervenire perché è classico in questo tipo di situazione di progetti fermi che venga chiesto la gestione che la gestione del progetto passi a una comunità non so se questo potrebbe essere qualcosa che Udo Italia o qualche altra comunità possa cominciare a pensare perché il passaggio comunque richiede molto tempo grazie prima domanda sì allora noi abbiamo inserito la parte di server proprio per creare diciamo una per metterlo comunque per analizzare anche quella come situazione al posto di vari server a casa che potremmo utilizzare grazie a questi pc e mini pc quindi noi abbiamo utilizzato quella come per andare a confrontare anche quali costi possono essere avere un server in casa rispetto a chi avere un server in cloud ecco sì era questa la domanda poi sull'aspetto di vk html o pdf quello è insomma è sicuramente un punto critico come spesso capita nel mondo dove c'è una libreria che magari è la classica immagine dove c'è tutta un'infrastruttura costruita e poi c'è la gamba di legno sotto e questo è il caso però c'è da dire che ci sono anche tanti altri motori di reportistica che si possono mettere a corredo delle varie installazioni o altre soluzioni in questi due giorni ci sarà tra l'altro uno degli sponsor che parlerà di un motore di reportistica che si può domani mattina se non ho lì office se non mi sbaglio per cui diciamo va fatta una considerazione anche diciamo in virtù di quello che diceva prima Piovesana col motore di reportistica xls era quello lì ok quello ha risolto un bel po' di problemi perché chiaramente le stampe massive hanno sempre dato un po' di fastidio e quindi bisogna ragionare anche in base alla necessità che dobbiamo andare a risolvere nel contesto specifico ci sono ecco ciao allora salve da Paolo Gatti di Odu per quanto riguarda piccola nota quanto riguarda VKHTML2PDF è sempre stato un po' un punto di dolore tanto che abbiamo creato un repository adesso non mi ricordo se è pubblico privato in cui stiamo cercando di mantenerlo noi internamente proprio per questione che non è mantenuto dalla comunità quindi non so a che punto sia non so che è un progetto interno quello di cercare di snellire le QT che sono la libreria su cui si basano per certe cose e comunque di portarlo avanti anche noi quindi magari possiamo contribuire tutti insieme e l'altra è una domanda che volevo fare rispetto a portare macchine ARM su linee di produzione credo che uno dei requisiti fondamentali sia anche la durabilità e la facilità di intervento poi perché le macchine di produzione molto spesso sono 24 ore io a casa con il Raspberry 4 avevo avuto problemi con tipo la memoria su scheda non è che abbia una durata infinita essendo una scheda di memoria avete fatto prove avete intenzione di guardare anche su questo aspetto perché mantenere un Mac Mini può avere un costo può avere delle difficoltà mantenere un Raspberry può averne altre sia facilità di sostituzione ma anche difficoltà di ottenere supporto sì allora per adesso non abbiamo fatto ancora prove per quanto riguarda l'SSD però potrebbe essere il futuro di questo studio diciamo concentrarsi proprio su vedere quale dispositivo possa fare a caso nostro quindi grazie altre domande bene grazie siamo arrivati precisi facciamo il cambio precisissimo proprio guarda grazie Grazie a tutti.